ci siamo ci siamo questo momento tanto atteso quello del cucinando con md ma soprattutto perché perché c'è chef Mario buongiorno a tutti voi oggi hai detto Mario ti preparo un piatto quello tipicamente del giovedì bravo un classico giovedì gnocchi però sono gli gnocchi alla sul serio alla sul serio l'abbiamo fatti ai quattro formaggi però uscendo fuori dai canoni con i soliti quattro formaggi che usiamo abbiamo usato il cremosissimo guarda vediamoli questi quattro formaggi il cremosissimo hai cambiato idea quindi allora gentilmente se possiamo vedere il cremosissimo così siamo precisi poi poi l'emmental l'emmental aspetta un attimo c'è ok dopo l'asiago effettivamente sono quattro formaggi diversi rispetto a quelli che abitualmente conosciamo e non ci si può mancare lo stracchino lo stracchino allora ciò può sembrare banale ma invece noi abbiamo arricchito questa salsa quattro formaggi con un bellissimo pesto di pistacchi Mary che ti consiglio di assaggiare anche come bruschettina le bruschette sulle carni sul pesce un primo piatto un passepartout Mary ti garantisco che è una bontà allora posso e poi e poi è già pronto all'uso e poi è mario ha voluto dire e poi è mario e poi già pronto all'uso allora chef effettivamente questi gnocchi e quattro formaggi ha veramente ha veramente un sapore totalmente nuovo totalmente innovativo per cui chef illuminaci nell'illostrazione della preparazione di questo piatto che sarà sicuramente squisito ottimo e facile da preparare tutto il tempo della nostra puntata vedi nel nostro tempo per il sugo per la salsa e quattro formaggi si parte però però un attimo chef you chef you c'è del burro ci arrivavo ci arrivavo abbiamo messo solo una noce di burro guarda guarda è proprio non volevo non volevo non volevo farlo sapere perché questo è il segreto poi perché per rendere per amalgamare totalmente i formaggi per resumo ci voglia qualcosa che leghi e quindi il burro incominciamo dall'emmental che è quello un po più duretto e più secco no quindi lo mettiamo in padella la cosa importante non esagerare la fiamma come la temperatura ok esatto perché altrimenti poi si ingolfa si ingolfa un po tutto si ingolfa tutto ma poi bisogna andare al meccanico no 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 noi vogliamo restare qui a mattina 9 perché c'è lo spazio del cucinano con md c'è scefferio che ci prepara tutti i giorni delle deliziose ricette noi adesso siamo qui fermi dinanzi alla televisione per capire quali sono i passaggi essenziali da ripetere nelle nostre case nelle nostre famiglie poi andiamo con l'asiago che leggermente più morbido più morbido e più saporito a questo punto parla tu parlo io quindi abbiamo questo primo formaggio che è il cremosino che cos'era parlo io stiamo tagliando l'asiago l'ho fatto apposta l'asiago e l'andiamo aggiungere quindi prima l'emmental poi l'asiago incomincia già a fondere tutto me ne accorgete anche voi dalla cremosità del formaggio naturalmente quello più cremoso in quanto tale aiuterà il fondo ad amalgamarsi maggiormente insaporendo il resto dei formaggi poi proseguiamo con il cremosissimo è facile da preparare bisogna solamente andare al supermercato comprare questi formaggi averli in casa e ecco quando vi fate il programma settimanale cosa cucino il lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì comprate e fate una mega spesa da md tra l'altro tanti prodotti in offerta dopodiché vi facciamo andare a nome nostro ma si a nome di c'è ferio a nome nostro prima mario e poi aereo la vandala di mario esce più e quindi dicevo scalettate in realtà le ricette che volete preparare così se risulta più semplice la settimana perché chef quanto è complicato tornare a casa non sapere cosa dover cucinare vero è una cosa che anche a voi è un po' fatica tu hai il ristorante mangiando sul sera il ristorante mangiando sul sera tu ti siedi lì in carta ti accomodi oppure dice chef che cosa mi preparai non voglio questo ma quando poi bisogna amministrare la propria casa la propria famiglia soprattutto nelle ore cruciali quello del pranzo e quella della cena non sappiamo cosa cucinare per cui noi veniamo incontro alle vostre esigenze avendo tra l'altro anche una pagina la facebook ma anche su instagram alla 2 potete rivedere questo momento di ricetta e tutte le altre ricette di chef e le preparate in tutti poi hai notato che abbiamo usato una padella alta un wok 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 e per facilitare l'operazione i piatti si innovano ma anche la lingua si innova allora meri prendendo in prestito quei dinogismi quelle parole che sono straniere in questo caso inseriamo lo stracchino e glielo inseriamo tutto in questo caso infatti inserito tutto tutto perché è più cremoso e riusciamo ad amalgamare il tutto comunque posso dire che questo piatto già mi piace dalla nomenclatura degli ingredienti già mi piace dal taglio già mi piace dalla preparazione questo è un piatto che io sicuramente farò farai farai? si si allora meri gli inseriamo un bel po' di basilico e poi è facile chef è semplicissimo detto fra noi veramente facile però sembra che hai regalato un momento di attenzione ai tuoi commensali ai tuoi ospiti perché è un piatto ricercato ecco all'occhio sebbene abbia il trucchetto che sia semplice perché noi in realtà qui spieghiamo i trucchetti no? vi diciamo tutti i trucchi per essere veramente bravi quando vengono quegli ospiti ad assaggiare il vostro piatto meri guarda un passaggio importante a questo punto inseriamo il pesto di pistacchi che è un bel cucchiione un bel cucchiione bello saporito e vi do una chicchetta dai daccelà all'inizio quando abbiamo messo il burro se vogliamo fare un piatto ancora più sai bello forte possiamo fare una gnocchetta di mortadella quindi facciamo un gnocchetto ai quattro formaggi con un pesto di pistacchi e mortadella wow perché poi il pesto della mortadella è un abbinamento mi dispiace che non mi sia venuto in mente è un abbinamento ottimo chef c'è un abbinamento di grande successo quindi anche la domenica se dovete invitare qualcuno a pranzo preparate questo piatto perché riuscirete ecco risulterete vincenti meri guarda caliamo i gnocchetti però è importante questo passaggio vero chef la manualità non farlo filare ma farlo fondere piano piano andiamo a calare i gnocchetti che sono gnocchetti di patate una bella quantità abbondante ecco chef il gnocchetto di patate tale deve essere? perché i gnocchetti c'è anche lì un po' di confusione si meri perché è morbido e si scioglie in bocca e vi assicuro che è tutto sublimato aggiungiamo un pochino un pochino di acqua di cottura ma giusto quel cuoco che basti per stemperare il tutto vedi già cambiato densità è un piatto che è davvero molto facile il segreto è la fiamma bassa meri farlo fondere ma non farlo attaccare in padella dimmi farlo fondere non farlo attaccare in padella spiegami spiegaci da dove proviene l'ispirazione di questo piatto preparato quest'oggi o chi ti ha suggerito questa cosa per quale motivo? da quattro anni di puntate di piatti di... non è vero io so che ti hanno scritto avevano voglia di qualcosa di totalmente moderno allora mi hanno scritto è vero come fare, come rivoluzionare i gnocchetti a quattro formaggi come stupire, come stupire stasera mio marito non è vero era questo il messaggio come stupire mio marito e farli diventare più particolari però non posso prenderci molto tempo il chef ha detto fra noi questa era la sintesi meri mi viene voglia di inserire il dito nella padella perché? e assaggiare e assaggiare così però non si può fare dunque un piatto davvero elegante ricercato, molto saporito, nobile possiamo dire e si prepara davvero in pochissimo tempo è un classico fatto con... con i suggerimenti di Chef Fere con questi trucchetti che Chef Fere vi sta donando quest'oggi davvero non potrete perdere colpi ma avete successo questo con il formaggio che abbiamo nel frigo non si può fare perché se abbiamo nel frigo... no no con questi... no no mi spiego me con il formaggio che abbiamo comperato di quelli elencati quest'oggi un primo banale con ingredienti importanti li abbiamo fatto diventare eclatanti perché abbiamo usato formaggi non di nicchia ma formaggi di un certo spessore no? sì quindi le abbiamo aggiunto il pesto di pistacchi che tu sei benissimo il pistaccio come... certo come rende come rende poco quindi è un prodotto abbastanza ricercato e se volete con l'aggiunta o sul fondo del burro oppure fare in una padella a parte mortadella croccante in padella io sono per la seconda e metterlo in cima al piatto allora... quindi o burro fuso dicevi o proprio... burro fuso e mortadella soffriggiamo un primo un po' la mortadella e poi andiamo a inserire i formaggi oppure prende una padella a parte rosolare fare un bel mortadella fetta di mortadella un po' più spessa croccante tagliarla a julienne io sono per la seconda voi? fare dei coriandoli fateci sapere qual è il vostro punto di vista siamo sulla pagina facebook siamo in diretta streaming un altro trucchetto Mary non fate cuocere la salsa troppo altrimenti ritorniamo al punto di partenza si indurisce? si indurisce e ci dobbiamo fare dobbiamo fare poi le formine le formine quindi quindi occhio proprio alla tempistica però ripeto potrete rivedere questo momento di diretta quando ripeterete e deciderete di preparare questo piatto perché la tempistica giusto è proprio quella che vi stiamo mostrando quest'oggi nel nostro spazio del Cucinando con il Medico Chef Mary questo è uno di quei piatti che quando tu lo stai realizzando ci lavori vicino ti viene da sorridere è vero perché ti porta felicità questo è un gatto felice e anche tanto profumo gli mettiamo un po' di pepe macinato bello sottile sottile assaggiamo di sale perché tra i formaggi ci sta qualcuno saporito ma necessita di un po' di sale Mary a me piacciono belli tirati tirati pure a me piacciono così a me piacciono belli tirati tirati allora questo è il momento topico lo facciamo diventare cinque formaggi Mary gli inseriamo anche un po' di grana allora questo è il momento topico in cui preferisco sul fondo del piatto tacere e ammirare la lavorazione e l'estrosità di chef Ferio l'estrosità culinaria e andiamo a rimpiattare vedi come fila vedi abbiamo messo il formaggio sotto esatto per fare in modo per non far allargare un gnocchetto nel piatto quindi abbiamo anche un altro trucchetto un impiattamento regolare no? perché altrimenti scappa qualche gnocchetto brava brava wow chef ma questa è una pioggia di bontà è proprio basilico fresco ed è un piatto che potete preparare anche per le vostre suocere non dite quali tipi di formaggio avete utilizzato così la ricetta diventerà solamente vostra questo è il piatto felice chiamiamolo così che rende felice vedi come sono felice io lo guardo e sono felice e tra l'altro anche il colore del piatto che hai utilizzato mi piace aspetto il momento che finiamo per addentrare quello che è rimasto nella padella Mary perciò sono felice perdonami chef lo so che magari se lo va a seguire buon tono cucchiaio o forchetta? ah forchetta cucchiaio non ce ne c'è io uso il mestolino signori un bacio a tutti voi ciao ciao ciao